Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Buonasera! Buonasera! Vengono chiamine! Ben trovati! Fatemi sentire! Non vi sento! Bello, così mi piace, mi piace a sky! Un bel applauso! Vai che porti una finta! Meraviglioso! Meno, 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 va bene, va bene, va bene, va bene così, va bene così. Quanto ci siete mancati ragazzi, quanto il vostro calore. Allora abbiamo un sacco di novità per voi, ci sono nuove iere, nuove inchieste. Grazie a tutti. Grazie a tutti.